ciao amici bentornati e benvenuti su amore imperfetto questo canale che vuole dare gli strumenti per la comunicazione e le relazioni umane allora oggi vediamo tre punti con i quali poter essere più seducenti punto primo se stai frequentando una persona non fare focus su quella persona ma mantieni il focus su di te sulla tua vita e sui tuoi impegni punto secondo mostrati disinteressata alle relazioni sentimentali non devi far trapelare il tuo bisogno o il tuo forte desiderio rispetto a questa concretizzazione anche perché non sai se quello che hai davanti in fin dei conti se lo merita punto terzo fatti conquistare solamente dai gesti e dai fatti non farti mai conquistare dalle parole perché ci sono moltissime persone che si giocano quella carta perché in realtà sanno che soprattutto le donne sono molto sensibili alle prospettive e alle promesse però nella vita contano solo i fatti ti do un'ultima tips fai attenzione se davanti a te hai una persona particolarmente splendida particolarmente fluida particolarmente capace perché vuol dire che probabilmente ha fatto tanto esercizio quindi a volte noi tendiamo ad escludere le persone che possono apparirci timide o comunque goffe o comunque impacciate però attenzione perché dietro al super esperto a volte si può nascondere un seriale fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti se non sei iscritto iscriviti attiva la campanella tutti i giorni riceverai un video in risposta ai tuoi quesiti amore imperfetto vi aspetta tanto amore qui e dopo fuori ciao ragazzi